Signora Luciani, un importante evento oggi si parte, un presidio qui da Foggia, per far capire che non c'è solo mafia qui in provincia, è Capitanata, l'importanza di un evento del genere. Sì, questa è una terra meravigliosa, ricca di arte, di cultura, veramente di eccellenze e tutti noi dobbiamo contribuire a spazzar via quello sporco che tende a detuffare e a devastare la nostra terra. Ecco, quanto è importante quindi manifestare, quanto è importante il corteo, quanto è importante appunto scendere in piazza? Io oserei dire che è vitale essere tutti uniti, è vitale perché noi siamo i più forti, la gente per bene, che lavora e viva onestamente, è la parte più forte, più bella di questa terra.